la meraviglia i nostri boschi voletus aereus sotto cerro meravigliosi adesso vi farò riprendere mentre li estraggo guardate che meraviglia guardate qua che vogliamo fare? ricopriremo la buchetta fatta adesso me lo pulisco qua perché fare questa operazione qui di pulizia fa sì che il miscelo secondario che si è già creato qui nelle barbe del fungo possa rinascere di per sé anche senza la diffusione delle spore quindi è sempre un'operazione da fare nel bosco ma l'ha completo, ho finito il video alla prossima, ciao!